Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come fare la sfida di Black Panther in Fortnite. Tutto quello che dovete fare semplicemente è giocare la modalità Knockout della Marvel. Vedete a sinistra c'è l'abilità di Black Panther. Se avete questa abilità avvicinatevi agli avversari, tenete premuto il tasto fino a provocare l'esplosione. Dopodiché colpite gli avversari il più rapidamente possibile. Avete poco tempo a disposizione. Dovete fare questo fino a quando non arrivate a mille di danno.